Ciao bambine e bambini e benvenuti alla Dance Challenge della scuola incantata! Io sono Sofia Campana e qui con me ci sono Alessa e Daniel! Ciao! E i loro sfidanti Iago e Noa! Ciao! Dunque la challenge è molto semplice per celebrare l'uscita di Me Contro Te il film il mestiero della scuola incantata su Netflix i nostri concorrenti si sfideranno ad una speciale gara di ballo Sì! Sono sicura che conoscete tutti la canzone vero? Sì! Ma sentiamola ancora DJ metti questa scuola! Questa scuola è un divertimento! Qui faccia la storia! E anche la geografia! Una parte che non ti sento! Questa scuola è un divertimento! E se vuoi viaggiare! Sono fantasia! Troppo bella! Ma non siamo qui per rilassarci! I nostri concorrenti dovranno provare a ballarla con una serie di ostacoli a sorpresa che abbiamo preparato per loro Siete pronti? Sì! Perfetto! Ci saranno tre sfide! Assegnerò ad ogni coppia dei punti in base alle vostre performance Chi alla fine avrà totalizzato più punti vincerà lo speciale trofeo della scuola incantata! Wow! Che bello! Iniziamo! La prima sfida consiste nel ballare usando le mani giganti di lui! Vi ricordate la scena? Sì! Aiutami, dammi una mano! Una mano, una mano! Ecco, ce l'ho! Per aiutare lui contro il potere arcano io ti chiedo al libro di dargli una mano! Ma cosa mi hai fatto? Ho chiesto al libro di darti una mano e te ne ha date due giganti! Sì! Fatevi sotto! Rammoliti! Pronti! Partenza! Via! Urla forte che non ti sento! Questa scuola è un divertimento! Qui faccia la storia! E anche la geografia! Urla forte che non ti sento! Questa scuola è un divertimento! E se puoi viaggiare... Dai, dai! Continuate! Mi sembrerà una follia, ma si può toccare il cielo Anche senza un aereo, lo puoi fare, è vero Insieme siamo magia, soli versiamo un po' meno È questo che conta davvero! Quanto mi fa bene, ballare per ore Quando siamo insieme Non ci ferma niente, sai E mi va, e mi va Mi stare bene Ma tutto il balletto ve lo ricordate? Come quando piove ma c'è il sole uguale Urla forte che non ti sento! Questa scuola è un divertimento! Dillo con i piedi! Dillo con le mani! Urla forte che non ti sento! Questa scuola è un divertimento! Vai sempre più in basso! Per prendere in alto! Bravissimi! Bravissimi ragazzi! Questa era abbastanza semplice dai! Io vi ho osservati bene e ora vi assegnerò i punti A Alissa e Daniel Do otto punti! Sì! E a Iago e Noah Do nove punti! Sì! Bravissimi a tutti! E ora andiamo avanti con la prossima sfida La seconda sfida sembra divertente ma metterà a dura prova la vostra coordinazione Dovrete ballare sul tappeto elastico! Sì! Siete pronti? Sì! Pronti! Partenza! Via! Urla forte che non ti sento! Questa scuola è un divertimento! Wow! Ma come fate ballare in aria? Mamma che bravi che siete! Insieme siamo magia! Soglieri siamo un po' meno! È questo che conta davvero! Quanto mi fa bene Ballare per ore Quando siamo insieme Non ci ferma niente Sai! E mi va E mi va Stai andando in altissimo! Se va tutto male Come quando piove ma c'è il sole uguale Urla forte che non ti sento! Questa scuola è un divertimento! Ma che salto ha fatto? Villo con le mani! Urla forte che non ti sento! Questa scuola è un divertimento! Vai sempre più in basso! Per poi andare in alto! Applausi! Bravissimi! Questa non era semplice! Ma vedo che vi siete divertiti molto! Sì! Ora però vi assegnerò i punti Iago e Noah A voi do 8 punti! Sì! E Alissa e Daniel A voi do 9 punti! Sì! Ora passiamo all'ultima sfida La più difficile Oh! Un po' di paura L'ultima sfida richiede tanto tanto equilibrio Dovrete ballare sul pavimento saponato! Oh! Vi ricordo qualcosa amici? Sì! Che intenzioni hai? Sta a vedere Baba di lumache! Mi abbiamo sconfitti! Sì! E quella mi sa che è riuscita Credo proprio di sì Pronti a ballare? Sì! Iniziamo 3, 2, 1, via! Ma sembra molto difficile Sono stracoraggiosi Ma si può toccare il cielo Anche senza un aereo Lo puoi fare Ti sei fatto male? Ok! Insieme siamo magia Solli le siamo un po' meno E' questo che conta davvero Oh my god! Quanto mi fa bene Ballare per ore Quando siamo insieme Non ci ferma niente, sai E mi va E mi va Mi stare bene anche se va tutto male E come quando Meno male che avete le protezioni ragazzi Urla forte che non ti sento, questa scuola è un divertimento Dillo con i piedi, dillo con le mani Urla forte che non ti sento, questa scuola è un divertimento Vai sempre più in basso, per poi andare in alto Applausi! Bellissimo! Ci ha voluto tanto coraggio per fare questa sfida e sono molto fiera di voi Ora però è il momento di decretare la coppia che ha vinto questa gara Vi ricordo che in questo momento siete entrambi a 17 punti La coppia che ha vinto questa gara è... Iago e Noah Sì! Ma anche voi siete stati bravissimi Congratulazioni ragazzi, ecco a voi lo speciale trofeo della scuola è incantata Grazie! Alziamo la coppa insieme! Sì! Non ti posso credere! Abbiamo vinto! Ma, visto che anche voi siete stati bravissimi Abbiamo un speciale trofeo anche per voi Congratulazioni! Grazie! Grazie! Complimenti ragazzi, siete stati bravissimi Se vi è piaciuto questo video Non perdetevi, me contro te Che è il film Il mistero della scuola incantata Su Netflix E iscrivetevi al canale E attivate la campanellina E come sempre Yeah, yeah, ni, 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 ni Ciao!